Marco hai tagliato i capelli ti sei rasato per la quarantena anche perché era arrivato un punto di non ritorno e allora allora ho deciso di dare un taglio così e me li sono tagliati tutti quanti bravo bello quindi tutti sono disperati perché dovevo andare dal parrucchiere fare tutte le cose in quarantena invece te sei figo e quando ritornerà sarai già fighissimo grazie grazie mille tu come stai invece io sto bene sono contenta che ci siamo sentiti oggi che il 25 aprile che è la mia festa del cuore infatti volevo mettere qualcosa di rosso ma poi ho detto tanto mi si vede solo qua allora ho messo il rossetto ci sta e ho pensato facciamo il rosso che è il rossetto così facciamo qualcosa di rosso per il 25 aprile quindi sono molto felice anche se un 25 aprile un po' strano perché sono abituato è la terza volta nella mia vita che non vado in manifestazione le altre due volte perché è capitato che fossi a londra c'è stato un periodo che facevo un po' avanti e indietro da londra e quindi ero a londra per due per due anni consecutivi sono stati a londra a cavallo tra il 25 aprile quindi niente e quest'anno la mia volta che sono a milano e che non vado alla manifestazione mannaggia fa un po' strano no fa molto strano infatti dovrà trovare dei modi per sopperire alla cosa tipo andare in piatta portare il fiore davanti alla targa andare qua dal cortile trappare un fiore e portarlo là in piazza che il 25 aprile un po' strano però vabbè ci adeguiamo beh diciamo che ti trovo bene comunque nonostante la quarantena è bella pinta ma sì guarda devo dirti è molto strano perché ci sono un po' io sono da sola a casa e noto che tra tutte le persone che sento amici o comunque anche persone per il lavoro che hanno i figli sono disperati perché devono stare a casa con i figli poverini non riescono a tenerli o non riescono a lavorare perché fanno sto smart work io ti sfido a fare lo smart work con i bambini in casa che ti si appendono da tutte le parti quindi già quello alla fine è un vantaggio non hai rotture di balle sei a casa da sola ci fai le tue cose ti puoi sfruttare veramente sto tempo un po' strano per pensare a delle cose che non fai normalmente se sei tutto un po' sospeso quindi se sei un po' di tempo faccio un po' di cose faccio giardinaggio mi curo il mio cortile poi ho la fortuna di avere un cortile spesso fuori quindi non mi sta pesando il fatto di stare chiusa in casa perché perché sono sono fuori all'aria aperta comunque riesco a lavorare qua però è strano perché non esci io esco proprio solo a fare la spesa una volta ogni 12 giorni quindi fa strano sta cosa la prima volta che sono uscita no dopo un po' di tempo che non uscivo mi faceva strano perché non sapevo attraversare la strada dicevo ma c'erano delle macchine che passavano ma fino a tipo dieci giorni prima si andava liberi no e non c'erano problemi invece ero lì che dicevo come faccio dove vado come come vado camminavo non sapevo come camminare quindi sarà difficile poi eh ritornare alla la normalità sarà strana fai qua in zona perché tu abiti vicino a me no sì esatto e c'è stato un periodo che proprio erano tutti bravissimi superligi non non usciva nessuno e invece l'altra mattina mi sono svegliata perché sentivo rumore di macchine cosa che non sentivo più da 30 giorni quindi non ero abituata quindi secondo me stanno inizio evidentemente sta aprendo qualcosa sta era il giorno che pioveva quindi quindi probabilmente anche quelli che di solito magari uscivano per lavoro per commissioni invece che andare a piedi andavano in macchina perché pioveva però ho iniziato a vedere un po di macchine in giro quindi pian piano quando si tornerà la normalità tu senti il rumore perché qua da me è bello che sia in cortile ma c'è sta vita è un pochino però non è un problema cioè ti sento per cogli auricolari però ci sono delle persone che si stanno salutando sul terrazzo perché ovviamente la gente che prima non si guardava di striscia non si rivolgeva la parola adesso sei minuti a parlare da un balcone all'altro che hanno finito di salutarsi infatti anche io qua sento un sacco di voci tra i ragazzi però è anche bello dai sì è bello qualche qualche flash mob cantato su allora ci dico all'inizio ho fatto un po io dico sempre ridendo ovviamente che sono un po snob nel senso che quando ci sono tutte queste cose di massa dico sempre ma no che palle non la faccio invece poi quando sentivo tutti che applaudivano non riuscivo a resistere e uscivo quindi allora io ho una casa un po strana nel senso che è un loft ed è rispetto al marciapiede è un piano al terra e un piano al sotterraneo però il cortile che a livello del sotterraneo perché è una casa fatta strana quindi è come se fosse a un piano terra comunque anche il cortile quindi io quando sono nella parte alta del soppalco questa finestra molto grande che dà sulla strada ma è come se fosse cioè ha delle ringhiere quindi comunque non non mi piace uscire cioè c'è la ringhiera e quindi non mi piace quindi uscivo in cortile nel cortile ovviamente è meno che sulla strada perché chi ha la doppia esposizione esce sulla strada e non sul cortile però comunque c'era gente lo stesso e quindi mi sono sparata agli applausi a medici e infermieri e poi quando cantavano ho ascoltato gli altri che cantavano non ho cantato anch'io ho risparmiato tutti la mia performance però però ho ascoltato con piacere quindi sì ho partecipato all'applauso attivamente e passivamente al canto soltanto ascoltato gli altri cantare però devo dirti che quando c'erano quegli appuntamenti famosi alle otto di sera era che cioè si guardava l'orologio si diceva ok dai tra dieci minuti parte quindi alla fine alla fine sì ho partecipato anche se faccio un po' la facendo oggi cosa che dicono le 15 dei canti penso no dal balcone non so se bella ciao che cosa perché mi hanno chiamato da radio popolare per chiedere se mandavo un audio e poi fanno un montaggio quindi con dei canti qualsiasi canto quindi penso che è per le 15 quindi penso che sia qualcosa quell'ora lì ma quindi tu come ti trovi con lavoro in modalità smart working allora io lavoro in modalità smart working e devo dirti che non è una grande novità nel senso che io ho sempre fatto smart working nel senso che sono giornalista freelance e quindi per le mie testate con cui collaboro o sempre essendo freelance ho sempre scritto da casa la differenza che magari le interviste invece che andarle a fare di persona le faccio al telefono ma capitava già tante volte anche prima e invece come ufficio stampa sia per voi di mare che per gli altri clienti che abbiamo come bon press lavoriamo da casa nel senso che noi abbiamo abbiamo deciso di non prendere uno studio ma di investire in altro e abbiamo la fortuna di avere delle case comunque abbastanza grande e quindi riusciamo comunque a lavorare sempre assieme e quindi abbiamo ho sempre lavorato da casa la differenza che non lavoro con le mie socie in dio che sono abituata con marianne carlotta vederci quasi quotidianamente adesso ci sentiamo quotidianamente e con i clienti idem invece che andare alle riunioni le facciamo in videochiamata ci sono quelli molto bravi con cui si hanno gli appuntamenti fissi e che ti dai un timing che sai che un'ora massimo un'ora e mezza va tutto ci sono quelli super bravi che ti dicono facciamo una riunione super operativa venti minuti fai tutto tata 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 ed è finita e poi ci sono quelli proprio che sono prolissimi in maniera allucinante quindi non accendo mai skype sennò mi vedono verde online e mi chiamano quindi tengo sempre skype chiuso e poi ci sono molti che mentre prima si facevano non so noi come ufficio comunicazione ufficio stampa facciamo soltanto magari le riunioni con gli uffici di comunicazione interni no invece adesso che ci sono anche i mega boss che sono a casa vogliono partecipare anche loro e lì è un delirio perché la maggior parte della volta dicono delle cose che cioè che sì è vero sono utili servono e tutto ma la maggior parte delle volte sono veramente superflui per il lavoro che dobbiamo fare noi e quindi però vogliono anche loro sentire cosa si dice quindi tipo prima li vedevamo così passando salutando e basta invece adesso diventa molto più impegnativo certo però vabbè si lavora molto di più come si lavora molto di più e infatti immagino che tu faccia molte chiamate sia per lavoro ma poi fai anche chiamate a familiari amici sì 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 allora ho degli appuntamenti fissi tipo io ho una delle mie più care amiche che è anestesista che praticamente sta lavorando fissa al al policlinico in terapia intensiva ah e quindi e loro sono proprio le mie amiche del del liceo quindi sono da 25 a da più di 20 30 anni che ci conosciamo e ci vediamo sempre non molto di frequente invece adesso abbiamo preso questa abitudine molto bella che almeno un paio di volte alla settimana ci sentiamo così sentiamo anche quelle che non vivono in italia quindi è più bello perché ci sentiamo tutte siamo in otto siamo otto amiche e una vive a londra e lei spesso la sentiamo meno invece adesso la sentiamo esattamente come come tutte le altre e con loro un po' la priorità perché chiara appunto essendo al policlinico ha dei turni molto molto densi intensi e molto molto lunghi e quindi tutto si basa su di lei quando lei libera ci dice ragazzi ci sono e quindi tutto in automatico quel giorno ci sentiamo perché lei può poi ho degli appuntamenti con i miei nipoti che mi mancano tantissimo e che hanno otto e sei anni e c'è Andrea che fa la terza elementare e spesso facciamo i compiti assieme quindi lui al computer e a me tipo santino di fianco con l'ipad e facciamo le ripetizioni di inglese e poi facciamo l'analisi grammaticale il casino è che ci sono delle cose che gli devi spiegare tu perché non facendo cioè homeschooling adesso si stanno attrezzando però non è proprio non sono molto all'avanguarda le scuole quindi non è che sono abituati a fare anche le lezioni quindi danno molti compiti si vedono però non non spiegano quindi per esempio a un certo punto gli hanno detto ok adesso inizia a fare l'analisi anche dei verbi e lui non gliel'hanno spiegati cosa sono e quindi noto la difficoltà nell'insegnare questa cosa perché io comunque ho fatto lettere quindi ho fatto molti esami di grammatica però un conto è saperla tu la grammatica un conto è doverla spiegare a un bambino di otto anni certo infatti quindi è molto impegnativo e invece Sofia è all'ultimo anno di della scuola materna e lei è fantastica perché lei si inventa queste storie quindi ti telefona ti racconta prende il libro lo sfoglia ti fa vedere si inventa le storie dei personaggi poi disegna e mi ha chiesto se le organizzavo una mostra e quindi ho fatto un video che mi ha chiesto di condividere sui social perché stai imparando che ci sono i social e ha invitato tutta la mostra utilizzando queste parole che io ridendo le spiegavo e lei le utilizzava storpiandole quindi la preview della mostra è diventata la prevista e poi fa questi quadri è molto bravo a disegnare fa questi quadri e dà dei titoli tipo uno è il quadro che mi hanno il disegno che mi hanno raccomandato perché gliel'ha chiesto la maestra di fare quindi il titolo è quello oppure l'esplosione di colori fa veramente ridere Sofia mi ha molto stupito perché è diventata super tecnologica e quindi visto che sua mamma deve seguire Andrea mentre fa i compiti e poi lavorare lei ha lasciato un po' a se stessa ovviamente e quindi ogni tanto prende il telefono ha imparato a riconoscere dalle foto le persone perché non sa ancora leggere essendo l'ultimo anno di scuola materna e ogni tanto telefona fa partire la chiamata e dice zia mannoio però la sua preferita è la nonna ovviamente perché lei non le dice mai no amore sto lavorando non posso la nonna c'è sempre e quindi la nonna è la sua chiamata preferita ogni tanto ci prova anche con me quindi sento loro poi sento i miei genitori che stanno imparando anche loro a usare whatsapp anche se vedo sempre la fronte di mia madre perché tieni la fronte in su perché tieni il telefono qua e poi sì gli amici gli amici ci sentiamo gli amici spesso anche amici che di solito non sentivo con così frequenza quindi c'è un po' questa voglia di sentire di comunicare più forti rispetto a prima ecco una cosa che farò quando finirà tutto sicuramente è di stare veramente un po' da sola in silenzio senza parlare perché non ho mai parlato così tanto come in questo periodo tra telefonate e videochiarate sei da sola però esattamente sei da sola ma attorniata di voci e quindi cercherò un po' di silenzio per un po' starò in casa senza far niente in silenzio no uscirò tanto andrò boh mi manca fare le passeggiate mi manca camminare io sono molto pigra non faccio attività sportiva nel senso non vado in palestra scio solo in inverno ma poi non ho una cosa che faccio tipo ci sono quelli che vanno in palestra quelli che corrono io no però cammino tantissimo beh allora ti faccio questa domanda se ti avessero detto che domani devi rinchiuderti in casa e avessi dovuto fare l'ultima cosa cosa avresti fatto? ah l'ultima cosa che fammici pensare un attimo allora penso che beh col senno di poi però quindi sai che cosa è difficile? che quando tu sei ti fanno questa domanda e hai fatto tutto quindi non non hai una cosa che ti manca così tanto da dire questa qua la farò sicuramente quindi adesso ti direi andrei a camminare ovviamente se tu me la dicessi così non te lo direi mai essendo appunto pigra penso che andrai fuori a cena perché una cosa che mi manca tanto è andare al ristorante non per mangiare proprio l'andare al ristorante perché adesso tutti ti sono messi a chiudere il cioè a cucinare tantissimo che adesso non trovi più lievito non trovi più la farina io sono una che ha sempre cucinato molto poco da quando vivo da sola prima quando ero sposata no cucinavo tantissimo quindi so cucinare so cucinare bene poi dopo quando mi sono separata ho cominciato a vivere da sola ovviamente tra esci di più prima perché stai superando la separazione quindi esci di più poi dopo ti tari su quella cosa che sei sempre fuori a cena sei sempre fuori a cena quindi continui ad andare fuori a cena agli amici che magari quelli che dicono no passo oggi e tu esci con tutti quindi io sono una che esce tantissimo a cena e poi anche durante il pranzo spesso per lavoro mi capita di non essere a casa e quindi magari mangio una cosa veloce oppure sono con clienti quindi si va fuori a cena oppure vengo a mare pranzo a mare quindi è proprio un'abitudine che ho che devo dirti che sono contenta di avere un po' riscoperto anche il piacere di cucinare a casa anche per me stessa perché è una delle cose che magari non ti metti a fare la lasagna perché ti metti a fare la lasagna io non so farle per poco so fare le porzioni per tanti ho le teglie per otto non è che mi metta a fare la lasagna per uno mi fa anche tristezza quindi non ti metti a fare i piatti complessi invece adesso ho imparato che invece ti puoi prendere cura di te stessa cucinando per te anche bene quindi parecchio cucino bene mi sono fatta le lasagne che sembra la moglie di fantozze che nascondeva il pane ovunque ho bene porzioni singole di lasagna in ogni punto del freezer apro un cassetto e mi esce una porzione singola di lasagna quindi sembra che ho avuto una relazione con un lasaniere quindi ho il frigo pieno e dovessi andare fuori a cena da qualche parte dove andresti? allora se dovesse allora ho un quello che mi manca più di tutto in assoluto è il ristorante sotto casa che è una vecchia trattoria milanese che da tanto in realtà perché io vivo qui da 15 anni è stata presa diciamo da una famiglia di cinesi il cuoco però era l'aiuto cuoco all'epoca è quello che l'ha preso ha ritirato l'attività quindi aveva già cucinato tanto con la persona che lo gestiva prima quindi ha mantenuto lo stesso menù e in più fa pizza da sport fa quelle pizze sai untissime alte proprio che ne mangi una e dici madonna non digeribile però pesantissima e lì vado spesso anche tipo se appunto non ho voglia di cucinare oppure se non ho fatto la spesa non ho niente nel frigo andare da Giada è la è la certezza quindi mi manca quello quindi paradossalmente la prima volta che usciero a cena andrò da Giada loro tra parentesi hanno chiuso molto prima nel senso che tutta la comunità cinese ha chiuso quando ha chiuso la scuola anche se i ristoranti erano aperti perché loro hanno fatto così in Cina sono abituati a far così e hanno seguito quindi da loro proprio non vado da dal 24 di febbraio tantissimo da due mesi che non vado da Giada ma è stata così tanto tempo quindi quello poi ho voglia di sushi che a me piace tantissimo e che non prendo per due motivi uno perché non amo molto i delivery nel senso che c'è un po' di sfruttamento per queste persone quindi non non l'ho mai fatto tanto anche perché dico cioè se vado a prenderla vado in un posto vicino a casa me lo porto a casa e mangio a casa faccio da sport quindi non non li amo molto e poi perché penso sempre che non arrivando in tempo magari non non hanno più la freschezza o la nel caso della pizza non è più calda nel caso di un'altra cucina calda non è più calda nel caso esatto esatto nel caso del sushi dico sempre boh certo ci sono anche ristoranti super figli che fanno sushi che fanno delivery però non non lo so non l'ho mai fatto non non mi sono mai fidata e quindi non ho mai preso il sushi da sport quindi anche sushi avrei voglia di andare tantissimo certo e invece parlando riguardo a tu lavori molto lavori da un po' di tempo per noi di mare sì e quindi essendo il nostro ufficio stampa riesci comunque a far parlare di noi sì che cosa ti manca più di mare ah vabbè prima di essere ufficio stampa di mare sono sempre stata cliente di mare e quindi mi manca proprio venire lì trovo che sia un posto molto bello mi piace perché io amo la città e infatti anche adesso che sono qua in cortile ci sono gli uccellini che si sentono la mattina in realtà ci sono sempre stati però si sentono di più perché c'è silenzio alcune volte mi svegliano e dico ma porca vacca ma io sono andata in città a vivere sono rimasta a vivere in città per scelta voglio il cemento non voglio essere svegliata dai uccellini alle sei di mattina voglio dormire quando voglio vado in campagna se voglio essere svegliata dalla natura la cosa che mi piace di mare è che sei in un contesto urbano e hai proprio l'idea di essere in un contesto urbano però entri nella cascina e sei in un altro mondo quindi mi piace molto questa cosa e mi manca mi manca tanto mi manca anche venire lì tipo di sfuggita e di fare la riunione che poi alla fine finisce tardi quindi poi ti fermi anche a mangiare ci si fermi a mangiare tutti assieme è bella la famiglia che si è creata mare che non è soltanto per noi che lavoriamo c'è proprio questo senso di comunità che c'è anche tra la gente che poi viene lì e che conosci che impari a conoscere quindi la cosa divertente è che molti non sanno che io lavoro per voi pensano che io sia un cliente perché poi non conosci il viso di chi è l'ufficio stampa e quindi si creano queste cose ed è molto carino e vedo anche degli amici che vivono lì in zone che lo frequentano e che mi vedono lì e che tutte le volte dicono madonna ma ti fai un viaggio da casa tua per venire fino a qua perché non sanno che lavoro per voi quindi è divertente questa cosa si crea proprio questo senso di famiglia di comunità a prescindere appunto che tu ne faccia parte come cliente o come collaboratore la cosa da comunicare in realtà non mi manca perché stiamo lavorando e quindi non mi può mancare perché c'è ancora e diciamo che c'è stata la capacità da parte di tutto il team di tutto lo staff di tenere in piedi la cosa io ho visto molte realtà che hanno deciso di stare zitte in questo momento un po' per rispetto della situazione e un po' perché evidentemente è anche una perdita a livello economico questo lockdown ovviamente non soltanto di libertà di poter scegliere di fare cose quindi molti magari si sono fatti prendere un po' dall'aspetto negativo ma magari non potevano economicamente e si sono fermati stanno zitti sui social si parla meno sui giornali di loro e invece con voi siamo riusciti proprio a continuare questa cosa vabbè i social li fate voi e li state continuando a fare molto bene però ci sono sempre tante idee tante iniziative che che state facendo partire che quindi è facile comunicare cioè è facile trovare la notizia perché poi comunicare non è mai facile però è facile avere la notizia da cui partire perché spesso manca la notizia vuoi comunicare ma non il cliente dice comunichiamo e dico sì ok ma dammi una notizia perché al giornale serve la notizia e invece di notizie da voi devo dire che anche in questo periodo di stasi ce ne sono e quindi non mi manca da quel punto di vista perché si è riuscito a sorperire e si è fatto lo stesso e le riunioni comunque anche quando ci sono le riunioni diciamo più formali quelle con voi tutti assieme un po' più cacciara quindi proprio divertente anche quelle un po' più formali dove arriva anche il boss dei boss però c'è sempre lo stesso mood perché comunque Andrea è così simpatico divertente si diverte quindi c'è sempre la battuta c'è sempre un appuntamento carino quando devo vedermi e si può dire quando perché intanto non si può interferire nessuno disturberà alle undici e mezza del venerdì che ormai è un appuntamento fisso non è tipo che palle adesso c'è la riunione con mare culturale è divertente vabbè almeno c'è la riunione con mare culturale mi rilasso un attimo e poi si preparano le cose perché ci sono tante cose che quando si potrà riaprire partiranno e quindi ci siamo un po' permessi il lusso di lavorarci non solo in smart ma anche in slow working e quindi ci siamo presi il tempo per elaborare bene le cose studiarle bene in alcune cose anche magari lasciarle sedimentare riprenderle dopo e capire che vengono fatte possono essere fatte anche in un altro modo perché quando prendi distanza poi dal lavoro lo recuperi riesci magari a migliorarlo a vederlo da un'altra prospettiva quindi lo si migliora quindi ci lavori di più perché ci ritorni due o tre volte invece quando sei d'urgenza buona la prima purché sia fatto bene però magari non ci ristai a ritornarci sopra dicendo vediamo tra cinque giorni cosa mi viene in mente perché hai l'immediatezza e quindi stiamo affrontando delle cose carine che partiranno da da quando partiranno e quando partiranno partiranno speriamo bene perché ci abbiamo lavorato bene va bene ti faccio un'ultima domanda poi dimmi Marco così se devi preparare i pranzi eccetera eccetera come ti immagini adesso da due mesi ormai che siamo rinchiusi e c'è una specie di spiraglio verso una riapertura di poter uscire eccetera tu come ti immagini il futuro nuovo a cui andiamo incontro cambieranno le relazioni tra le persone cambieranno i modi in cui magari tu personalmente o la comunità in generale si approccerà alle cose ai servizi alla città come ti sei immaginata il futuro allora io credo che cambierà e mi auguro che cambierà nel senso che fino adesso diciamo che sono andate di fretta molte cose e non si è messo l'accento giusto sulle cose non si sono date priorità a magari a situazioni o a temi che di solito hai sempre lì sai che prima o poi vai a prendere ma che avendo fretta di fare altro non tocchi invece con questa calma con questo periodo sospeso che stiamo attraversando ti fa capire anche che questa cosa qua in realtà puoi trovare lo spazio per farla idem nel rapporto con le altre persone e anche con la città lo smart working secondo me è una cosa che verrà presa in considerazione però si dovrà investire molto perché per adesso da molti bisogna capire chi può farlo e chi no ci sono ovviamente delle situazioni in cui non si può fare e invece ci sono delle realtà che invece ti permettono di farlo però secondo me bisogna rivedere questo anche si può capire che si può lavorare anche da casa che non ci deve essere per forza la necessità di essere tutti in un posto perché ci si può muovere di meno e quindi ci sono gli strumenti per poterlo fare capisci anche secondo me i capi possono capire che io ho sempre pensato che si potesse fare anche nel mio lavoro è molto più semplice anche quando ero in redazione come giornalista io mi dicevo ma perché non mi fate lavorare da casa no perché ti vogliono lì in redazione ma sono efficiente uguale e così si sono resi conto che l'efficienza c'è lo stesso e questo può essere un aiuto ovvio che ci devono essere degli strumenti maggiori anche a livello statale anche a livello di governo si devono capire un po' di cose devono essere sistemate e mi auguro che si vada molto di più a piedi e che si usino molto di più i mezzi pubblici perché ci sono perché funzionano e perché si è visto che la città senza traffico è bellissima non così vuota però un ottimo compromesso ci potrebbe essere ovvio che poi c'è traffico ci si muove con ci si impiega più tempo rispetto ad adesso che non c'è in giro nessuno però cosa succede se ci impieghi 40 minuti invece che mezz'ora andare in un posto perché vai con i mezzi niente cioè bisogna capire un po' quello e con la gente anche io ti dico per esempio con questa amica abbiamo deciso che in ogni caso anche dopo almeno un appuntamento settimanale ci sarà sempre sulla fantastica piattaforma zoom di cui tutti parlano perché almeno c'è anche Cristina da Londra che si può connettere con noi che se no la sentivamo solo in chat e non la vedevamo quindi secondo me questa cosa qua sì ci sarà però poi ci sarà anche subito dopo tanta voglia di stare insieme fisicamente con la gente e con me manca proprio quella cosa lì di abbracciare io sono una molto fisica quindi quando mi vedo una persona e viene su da abbracciarla da abbracciarla ovviamente se c'è confidenza non con chiunque però è una cosa che mi manca tipo è assurdo io sono due mesi che non vedo mia madre che vive a Milano è strano la prima cosa che faccio ho detto prendo l'uno che è il mio mezzo preferito il tram 1 che ha il capolinea qua vicino a casa mia e poi arriva dall'altra parte di Milano e passa vicino a casa dei miei ho detto mamma prima cosa che faccio è io prendo l'uno con gli auricolari mi ascolto la mia musica mi faccio un viaggio attraversando la città di 45 minuti perché contro i venti che ci impiegherai fa il giro della città quindi ci impiega molto di più e vado a trovare loro perché ho proprio una voglia pazzesca di vederli quello un sacco è la cosa che mi manca di più poi arriverò anche a mangiare a mare sì pian piano recupererò tutte le cose perse come? recupererò tutte le cose perse pian piano eh sì avremo il tempo di farlo diciamo avremo il tempo di farlo infatti infatti ma a te non ti ho chiesto niente non volevi raccontare niente tu ti stai bene io sto bene sì 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 sono in realtà adesso non sono esattamente a Milano sono a casa di amici perché all'inizio della quarantena mi sono ritrovato qua però sono fortunato perché non sono mai da solo comunque ah ok arrivo a svagarmi e sono molto contento cioè aspetto spero di che questa quarantena possa finire così da poter magari vedere altri amici riprendere un po' la quotidianità che avevo anche prima che mi manca un po' e poter anche rivedere i miei quindi tornare a casa stare un po' con loro che da effettivamente ancora prima che cominciamo sulla quarantena era da Natale che non tornavo ah cavoli da tantissimo sono quattro mesi dov'è che sono loro? loro a Vicenza in promesso di Vicenza ah ok 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 quindi comunque anche quello spero che sia momento che arrivi arriverà presto diciamo sì 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 vedrai riusciremo ti mando un bacio Marco di Mare Culturale Urbano sì ti bacio da qua ti abbraccio da qua e ci vediamo presto a Mare certo a presto ciao grazie a te ciao ciao ciao